Ciao smanettoni, oggi siamo di nuovo su photoshop e questo è un tutorial che faccio in maniera molto veloce ed efficace a rispondere a una vostra richiesta, forse quella più frequente attualmente che è come tolgo le borse o le occhiaie in maniera facile, veloce, senza problemi perché comunque si a molti mi dicono ma io non separo le frequenze, ma io non lo so fare, ma il workflow è troppo lungo ma poi mi perdo e bla 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 via discorrendo e gna 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 la soluzione migliore è proprio odds, veniamo a noi, innanzitutto la foto che sto utilizzando è presa dal retouch academy raw file che trovate tranquillamente in descrizione quindi poi potete scaricarvi la foto tranquillamente in quanto sono royalty free e potete far pratica ad oggi cosa andiamo a fare? in 4 o 5 semplici mosse andiamo a eliminare totalmente le occhiaie o comunque ad attenuarle in maniera pulita senza perdita di texture che è fondamentale nella fotografia beauty e con un risultato molto più gradevole, ora come vedete qui abbiamo diverse zone d'ombra anche bruttine sulla fronte, sugli occhi e bla bla bla, questo è un file grezzo, non è prodotto oggi mi concentrerò sulle borse perché comunque il tutorial prevede questo quindi cosa devo fare semplicemente? innanzitutto io tengo sempre il mio background così com'è e vado a duplicarlo premendo command j ora mi servirà un altro livello copia quindi faccio di nuovo command j e il livello 2 o livello 1 copia lo chiamo texture ora premendo il tasto sempre sul livello texture maiuscola command u lo vado a desaturare a questo punto non devo far altro che trasformarlo in una texture fittizia che mi servirà tra poco come vado a fare? vado semplicemente a fare altri accento a passaggio questo valore di 6 pixel lo uso mediamente tra i 6 e i 5 e a volte 7 pixel dipende dalla risoluzione delle vostre foto quindi fate una prova più o meno la risoluzione sarà sempre la stessa a seconda della fotocamera e del file che producete quindi prendetevelo come standard vado a fare ok ora come vedete ho la texture e il grigio medio come nel precedente tutorial che vi lascio sempre in descrizione vado a cambiare il metodo di fusione da normale a sovrapponi ad ora vedete che ho un'eccedenza di texture ho un microcontrasto molto sgradevole e molto brutto eccolo qua, pardon quindi se io lo disattivo questa è la mia texture normale e questa è l'abbondanza di texture ma non vi preoccupate perché questa abbondanza sarà proprio quello che ci servirà tra poco ad ora cosa vado a fare? vado a creare un livello vuoto premendo questo tasto tra i due livelli quindi questo lo chiameremo reskin e vado a fare un clip tra la texture e il mio livello di reskin quindi premo alt e vado a fare questo qui tenendo premuto come vedete io attivo la maschera di ritaglio che trovate sempre nel tutorial di cui vi lascio il link in descrizione adesso in realtà il gioco sta semplicemente nell'utilizzare il pennello ad un'opacità che intercore tra il 20 e il 40% io adesso a dimostrazione dell'efficacia di questa tecnica caricherò molto il mio pennello quindi a seconda della vostra mano poi decidete voi quale è migliore e qual è il risultato più gradevole quindi metto un flusso del 60% opacità al 100% avendo la mia Intos Pro riesco tranquillamente a gestire molto meglio il flusso con la mia mano anche perché questa tavola ha veramente tantissimi controlli di pressione personalizzati quindi potete cucirvelo addosso e vado semplicemente a fare questo premendo alt campione un colore molto vicino all'occhiaia che devo andare a togliere in questo caso magari un colore leggermente più chiaro e vado a fare questo ok vado a fare questo vado a sistemare come vedete tutte le zone che non comunque sia che non sono idonee anche le transizioni tra luce ed ombre ad esempio anche qui ok ovviamente come ho già detto sto caricando molto il pennello per darvi un'idea chiara ma alla fine vedrete che il risultato sarà eccelso ovviamente come sempre adesso andiamo a vedere qui quello che è successo vedete che io qui ho una mancanza di texture importante quindi questo è l'originale e questo è quello coperto ma se io ora utilizzo il mio livello texture e lo riattivo wow la texture è tornata ed è esattamente come prima ora come vi dicevo poc'anzi è normale che se io uso molto il pennello il livello texture non riempa in maniera precisa 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 la texture come era prima vedete che è leggermente più sfogata come fare è molto semplice duplico di nuovo il livello texture e lo vado a clippare quindi e regolo l'opacità a seconda di come mi serve finché non ho un riscontro positivo con la texture originale che in questo caso è questa quindi vado a questa a zero lo metto magari all'80% e adesso ho nessuna occhiaia la texture ovviamente è stata ripristinata in maniera corretta senza nessun problema e la cosa più importante è questa ragazzi cercare sempre di fare delle produzioni che siano innanzitutto non invasive quindi che lasciano un look molto naturale molto pulito ed avere comunque sia una pelle gradevole ricordate la pelle non è cera non è buccia d'arancio quindi ha le sue imperfezioni e deve anche essere trattata in modo corretto comunque il tutorial finisce qua io vi ricordo che sono Oz vi ricordo che mi trovate su Oz the Wizard su Instagram Oz Photography su Facebook se vi è piaciuto questo tutorial un bel pollicione in alto e visto che è un tutorial che faccio per tutti mi raccomando condividetelo e facciamo crescere il canale perché questo canale lavora in funzione alle vostre risposte quindi io faccio tutorial in funzione a quanta risposta poi gli utenti mi danno quindi grazie a tutti per seguirmi e ci vediamo al prossimo tutorial ciao ciao ciao